Ciao a tutti, io sono Elisa, vengo da Napoli, ho 31 anni. Sono venuta a conoscenza della Clinica Kate grazie al mio amico albanese Luli e ho deciso di affrontare una mastoplastia additiva qui in Clinica Kate dove ho trovato uno staff meraviglioso, molto accogliente, educatissimo e vi posso garantire ottimi risultati, avete un'accoglienza unica, fantastica come si può vedere dal mio volto mi hanno regalato un nuovo sorriso, tanta gioia e posso solo che dire felenderi a tutti, Tirana, Kate e tutto lo staff.